La pannone dei libri Angera. Se volete tutti i pomeriggi dalle tre alle sette dei giorni del lunedì a venerdì potete venire a vedere una mostra che abbiamo allestito per il centenario di Dante. È una mostra decisamente importante che raramente si vede perché contiene tutte e cento le illustrazioni che Salvador Dalì ha fatto negli anni 50 e 60 sulla Divina Commedia, una per canto. Come mai Dalì un pittore spagnolo? Beh questo è quello che si domandarono tutti i pittori italiani quando Dalì ricevette dal governo italiano la commissione per preparare tutte le tavole per una grande edizione da fare per il centenario della nascita che cadeva nel 1965. Son movimento popolare, Dalì è spagnolo, perché uno spagnolo e non un italiano eccetera eccetera. D'altronde in effetti se ci pensate Don Quixote normalmente lo illustravano appunto Picasso Dalì stesso, Miró e molto difficilmente gli italiani e quindi gli italiani giustamente si risentono. Cade il governo, cosa che in Italia succede ogni due per tre, arrivano al ministro e dice sai che c'è da lì ti tolgo la commissione troppe polemiche. Solo che da lì a quel punto si è innamorato del progetto per cui rientra in possesso la proprietà delle tavole, completa il progetto e poi riesce in una maniera un po' rocambolesca a venderlo a un signore che è un tipo un po' bizzarro, un produttore cinematografico, sposato con la Gina Lollobrigida, grande attrice di quell'epoca, molto nota, molto famosa eccetera, che quindi con la cultura ci azzecca poco ma che entra nell'editoria, compra l'editore Salani di Firenze e che è un vecchio marchio storico, adesso sta a Milano dentro il gruppo di Longanesi, ma prima era là autonomo, e decide di fare questa pubblicazione bellissima, molto lussuosa, molto bella, in cui i canti sono esplicitati con un grande spazio, carattere bodoni, carta forte, un'edizione bella e anche costosa e soprattutto le 100 illustrazioni. Noi andiamo a fare un piccolo viaggio attraverso queste illustrazioni nelle tre cantiche, ma prima vorrei leggervi cosa Dalì ha detto a proposito di queste tavole, con una metafora a dir poco un po' ardimentosa. Desidero che i miei acquerelli per Dante risultino come delle impronte leggere lasciate dall'umidità di un formaggio di natura divina. La mistica è il formaggio, il Cristo è un formaggio, meglio ancora una montagna di formaggio. E allora andiamo a vedere di che razza di formaggio stiamo parlando. Vedete alle mie spalle questo è l'inferno e già da un primo sguardo si capisce che non è l'inferno classico. Dov'è il rosso classico dell'inferno? Sì, noi abbiamo messo uno sfondo rosso, ma a parte quello ce n'è pochissimo. Eppure è un'interpretazione assolutamente pertinente. Chiunque abbia letto con un po' di attenzione l'inferno ritroverà alcuni dei personaggi che ha molto amato. Andiamone a vedere qualcuno così ma molto molto a volo d'uccello perché poi bisogna venire qua e vedersele tutte una per una. Vedete che le abbiamo anche messe senza alcuna cornice in modo che si possano vedere senza mediazioni. Guardate questo straordinario Farinata, questa ombra che giganteggia su Dante e Virgilio. È veramente l'idea assoluta di Farinata. E poi andiamo a vedere tutti questi sfondi che sono molto forti, eppure sono quasi costantemente bianchi. Ve ne faccio vedere solo appunto qualcuno. Ecco Gianni Schicchi. E Gianni Schicchi, inutile negare che qua c'è una evidentissima connessione con la pittura da lì, la persistenza in memoria, insomma tutte le cose che conosciamo molto bene. Guardate questo nelle mani di Anteo, com'è di folgorante forza, e si arriva fino alla conclusione nell'Inferno che è questo meraviglioso Lucifero, forse il mio preferito perché c'è tutta la piccolezza degli uomini, vedete Dante e Virgilio minuscoli, al cospetto di un lucifero enorme che incombe sopra di loro. E questa è un po' tutta la caratteristica dell'Inferno. Siamo andati al Purgatorio. Il Purgatorio è la cantica più difficile da leggere, da comprendere. Il mio amico Vittorio Sermonti sosteneva che fosse la più bella di tutte. Ho sempre avuto qualche perplessità su questa idea, un po' come se volesse poi attirare il pubblico che veniva più volentieri all'Inferno, soprattutto ma anche al Paradiso. Il Purgatorio, come tutte le vie di mezzo, è più difficile a digerire, però alcune cose anche qua sono meravigliose. Guardate questa racne, questo ragno che ancora di nuovo è su tutta l'immagine mentre Dante qua con Virgilio è terribilmente impaurito. E poi un'altra immagine, naturalmente ci si potrebbe fermare su tutte le cose che da lì sceglie, perché poi lui sceglie un'immagine a canto, sì ma in maniera anche molto artistica, alcune volte ne fa due, alcuni canti li salta. E qui c'è un momento topico, che è l'incontro con Beatrice. E guardate, l'incontro con Beatrice, certo, Dante vestito di rosso, Beatrice vestita di blu, però in un'interpretazione totalmente personale. Perché tutta questa lettura della Divina Commedia di Dalì è un modo per noi per ricordare la Divina Commedia, ma vista attraverso degli occhi di un altro. È come se un professore ce la stesse raccontando e quindi è veramente un modo di ascendere. E infatti noi, anche nel capannone, ascendiamo verso il paradiso. A costo di essere un po' banali, per il paradiso abbiamo scelto uno sfondo azzurro, che ci pare anche piuttosto spettacolare, perché ci consente di dare uno sguardo completo sulle 33 tavole che Dalì ha preparato. Lui però l'azzurro lo usa poco, lo usa ovviamente per i vestiti, lo usa per certi angeli, ma anche i suoi angeli sono molto eterei, sono qualche cosa che sta al di là del singolo colore. E allora anche qui vi farei vedere forse una sola immagine, ma quella che secondo me condensa tutto e che potrebbe essere emblematica anche di tutto questo viaggio di Salvador Dalì nel universo della Divina Commedia. Ed è questa, eccolo qua, Dante. Un Dante classico, Dante con l'alloro, Dante con il cappuccio rosso, Dante però scavato. Guardate l'intensità di questo volto. Dante è un uomo che ha sofferto, che ha sofferto l'esilio, che ce l'ha raccontato e che pur essendo arrivato all'apice del suo viaggio, al paradiso dove ritrova Beatrice l'amore della sua vita, eccetera, eccetera, però è un uomo che è ancora in preda al dubbio. E infatti la didascalia qui è Dante dubbioso. Io dubitava, siamo nel canto settimo del paradiso. Non è qua che si chiude evidentemente la sequenza di tavole, le tavole vanno ovviamente fino alla fine, fino alle stelle che come sappiamo chiudono la Divina Commedia e ogni singola cantica, ma questa è l'immagine che forse a me colpisce di più dell'incontro tra due straordinarie personalità artistiche del nostro tempo.